Cinque mesi fa, quando aveva gettato la spugna, aveva detto che il suo gesto non era un passo indietro, ma una rincorsa per farne due avanti insieme. E così è stato, in effetti, perché il Partito Democratico ha deciso di ripartire ancora da lui, dal segretario uscente, da quel Francesco Brandi, che, eletto a marzo 2019, aveva lasciato la carica a febbraio. Beh, io mi auguravo di essere rieletto e, diciamo, è andata così, è andata bene. Forse anche per via di quello che ho scritto e quello che ho detto. Mi piace pensare che sia anche per questo. L'ex esponente di Città Democratica ha avuto la meglio nel congresso di qualche giorno fa su Cecilia Petta, anche lei docente. Ed è facile capire come il Brandi Bis sarà la prosecuzione del Brandi 1, con le parole d'ordine che sono rinnovare, riannodare e riorganizzare. E dove la forza saranno i tesserati. Il Brandi 2 inizierà con un'assemblea. In questa assemblea cercheremo di dare, condividere, diciamo, l'indirizzo e le linee del mandato di segretario e di impostare un lavoro di maggiore collaborazione e, riutilizzo questa parola, di maggiore condivisione con tutti. La prima sfida, però, saranno le imminenti regionali del 20 e 21 settembre, dove dalla Pescara vorranno essere protagonisti. Di impegnarsi per il Partito Democratico, per il centrosinistra, per provare a fare il meglio possibile, per fare in modo che anche Bitonto dia un contributo importante alla causa del centrosinistra e alla riconferma di Emiliano.